Oh ragazzi, allora è passeggiatina? Ma quale passeggiatina? Non vedete che fa freddissimo? Testo uccide! Ritirata verso casa! A parte che tutto sta freddo non lo fa, ma poi sta uscendo pure il sole! Ragazzi, passeggiata? Se no è un cambio, è trasformismo! Ma perché a noi sto fatto non ci riesce mai? Ma buono, però queste sono buone per tutte e quattro le stagioni! Andiamo? Stiamo! Oh, eppure questa è fatta! Ehi, ma ma se attacca e vuol dire che per me solo non c'è stonga per nessuno! Magara, è povera! Tutti in rapporto! Mettere le maglie di lama nelle buste di plastica trasparenti! Organizzare gli scatoloni a metterli in soffitta! Imballare i tappeti invernali che ho comprato, quelli nuovi! Cambio di stagione! No mamma, ti prego! Almeno lasciami i maglioni! Almeno uno, lasciamelo! Lama è la mano di questo tappete che lo devo portare sopra! Forza! Mamma, vedi che quello non è un tappet, si muove! Hai imbalato pure il nono, è sicuro? Io ho capito il tuo luogo, ma piano piano! Ragazzi, però non si può fare questa vita! Stanno messi i corsi pure il sabato! Ragazzi, dai, non esagerate! Alla fine è l'ultimo sforzo, dai, sta arrivando anche l'estate! Oh, ragazzi! E dai, ritorniamo a casa, che stessimo tenemmo sei esami! Quest'anno l'estate non lavoreremo proprio! Però, ho trovato una ragazza disponibilissima che ci ha prestato pure gli appunti! Ma sei iscritta al terzo anno? No, seconda media! E ricordatevi, per l'interrogazione studiate bene l'analisi logica! Poi vi ho detto, qui siete a capo tanto, invece con l'inglese non mi hai spiegato buono... Ecco! Ragazzi, mo basta però, eh! Abbiamo comprato questo, non compriamo più niente! Un minimo, un minimo dobbiamo aspettare 3-4 mesi! La tua collezione è schiva, la dobbiamo comprare prima che finisce! La porta a piedi, la porta a piedi! Tutto, ma già catta tutto! Ragazzi, oggi solo coperta e camomilla, eh! Quest'anno la stagione non arriva mai! Rikki, che faccio coperta e camomilla che ci scaldiamo un po'? Com'è il tosto freno? E dicene che serve la spiaggia! Anche che mi serve il graaleno? La spiaggia è uno stato d'animo, uno stile di vita! Poi dicene che a Milano non c'è il sole! Il sole c'è! L'importante è trovare il balcone giusto! Ehi, Giovanni! Sì, questa mi sono un po' allargato, l'ho fatta più grande! E tu c'hai il sole fino alle 7 e io c'ho la piscinetta! Facci una ruotata e arrivo, eh! Aaaaaaah, mamma mia! Non c'ho la mia! Aaaaaah! Aaaaaah! Lo so! Perché da voi andiamo allevando? Perché? Aaaaaah! Aaaaaah! Sentito, poi dicono che siamo noi il sesso debole! Penso se ci avevano il ciclo! Uuuuuh! E che stai una ceretta all'inguine! Sicuro! Oh, raga, mi raccomando, voi dove vi fate il business plan per la settimana prossima? Te ti occupi del planning? Te fai bene a fare i timbrini, quello che stai facendo? Io mi finisco la mailing list! Lo so, raga, oggi si finisce un po' più tardi, ma alla fine non è che ci stiamo perdendo sto gran giornatone! Raga, ma cos'è? Ma è tipo caldo! Voi non avete visto niente! LAVORARE! LAVORARE! TAAAAC! LAVORARE! Grazie.